Questa società avrà sostanzialmente due scopi, lo scopo è utilizzare gli acquedorni comunali che rimangono nella proprietà del comune, non si costruiranno le nuove centrali di redditi ma si utilizzeranno quelle già esistenti e poi quella di partecipare alle gare della concessione in scadenza che ad oggi sul territorio del Solano ha molto oltre 20 milioni. Salvo le due centraline che abbiamo deliberato di realizzare in comune macugnale e in comune di Ciapponorelli, dopo chiaramente se ne ci saranno, al momento non è questa l'intenzione della società ma è quella sostanzialmente di acquisire quelle risorse che per decenni sono volate altrove e utilizzarle ovviamente ricadute sul territorio. Infatti quello dice corretto, una volta le concessioni di redditi venivano rilasciate al servizio degli opifici, gli opifici davano lavoro alle nostre popolazioni, come è tutto evidente questo lavoro adesso viene meno, ma le concessioni di redditi sono rimaste, per cui riteniamo assolutamente corretto che quelle in scadenza tornino nel possesso quantomeno economico della popolazione sull'acqua svolta.